un caro salute a tutti voi con vera gioia vorrei salutare tutti voi augurarvi tutto il successo chiedendo al signore di benedire e di guidare il vostro impegno amorevole e meraviglioso desidero esprimere un sentito ringraziamento al caro direttore artistico fabrizio venturi al direttore della comunicazione piaggio maimone a tutti i concorrenti ai presentatori a tutti coloro che si sono impegnati sia nell'organizzazione sia nella realizzazione di questo festival della canzone cristiana sono sicuro che la musica in quanto lingua universale e i valori cristiani quando si uniscono producono solo pace armonia fratellanza libertà dignità rispetto della diversità la musica è un linguaggio che dobbiamo tutti imparare per arrivare alla pace e per arrestare le guerre che stanno distruggendo la nostra fragile umanità cantati dunque e parlatici di amore diffondete il messaggio di speranza di fratellanza umana per abbattere i muri dell'odio che impediscono il cammino della pace in ogni angolo della terra accendete la luce della musica per illuminare il sentire della nostra umanità vi auguro tutto il successo e vi ringrazio per questa opportunità il signore vi benedica